ci 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 sono è arrivo arrivo eccoci qua guardate vi ho portato un grande regalo una sorpresa lascia lì che poi vi spiego e allora state bene oggi vi faccio aspettare qualche cosa però in questo momento di festa ci vuole un qualcosa di forte guarda guardate vi ho portato un grande regalo una sorpresa eccoci qua 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 eccoci qua 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 eccoci qua 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 perché funziona perché l'avete richiesto eccoci qua 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 eccoci qua 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 eccoci qua 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 perché funziona perché l'avete richiesto in questo momento di festa ci vuole un qualcosa di forte eccoci qua 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 eccoci qua 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 eccoci qua 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 eccoci qua 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 in questo momento di festa non dico valore commerciale costerebbe costa 69 mila eccoci qua 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 qua